Buongiorno dal dottor Claudio Sarecino da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi di CS è vera e professionale. Oggi, ragazzi, parleremo di mente e corpo. Mente e corpo. Ha una relazione, il binomio, mente con il corpo, sì o no, secondo te? Ti sei mai chiesto, diciamo, per il pensiero occidentale non esiste corrispondenza tra mente e corpo, ma se rifletti esiste più che il comune sentire, perché si rifletti la prova del 9 e quando hai una forte paura, una forte rabbia, un forte stress, senti il tuo cuore sfarfallare, come lo sentivo io tanti e tanti anni fa, la studente lavoratore senza una lita in tasca, senti tremare la tua voce, senti che vai in tachicardia magari, senti accapponarsi la pelle, sì o no, ecco, queste, senti affanno, senti il sangue, come si suol dire in gergo popolare, il sangue alla testa per la rabbia oppure alle mani. C'è un proverbio antico che recita, quando sei arrabbiato metti le mani sotto l'acqua fredda, se rifletti le mani diventano calde, perché irrazionalmente, subconsciamente ti prepari alla lotta, alla guerra, alla bagarra, al litigio, per cui le mani diventano calde, perché non hai bisogno di forza e di energia. Se tu le metti sotto l'acqua fredda, lanci un messaggio al tuo subcosciente che si è raffreddata la mano e quindi non c'è più la rabbia. Ok? Sembrano sciacchezze, ragazzi, però provate e testate su di voi come io ho testato e provato su di me. Funziona, funziona. Ora, se tu non vuoi, come si può dire, pensare ai guru, a ciò che dicono di noi che siamo delle macchine, come lo diceva Isaac Newton più di cinque secoli fa, allora cerca di utilizzare, di approfondire il potere della tua mente per risolvere i problemi anche sulla tua pelle, sui tuoi capelli, sui tuoi organi, sulle tue ghiandole, sul tuo corpo, sulla tua vita visibile, è infusibile, anche da solo, magari scaricandoti degli audio mp3 di celsi che trovi sul sito della mia associazione, i pronologi associati di Los Angeles Beverly Hills. Funziona, ragazzi, funziona, funziona. Perché eliminato a monte l'omino che butta spazzatura a valle, l'omino sono i tuoi pensieri, le tue emozioni negativi, il tuo passato negativo, tu avrai la valle, l'acqua pulita, ma se poco poco tu pulisci a valle, è una metafora, rifletti, però c'è sempre l'omino, i pensieri brutti, il passato negativo, gli abusi, le sofferenze che ti hanno ipnotizzato, che hanno intriso il tuo subcosciente, il tuo pilota automatico, a farti soffrire per tutta la tua vita e tu lo stai chiamando destino, bene, mai e poi mai te ne potrai uscire, perché prima o poi l'omino butterà ancora spazzatura, tu devi eliminare quell'omino lassù, lassù lo devi eliminare e buttare giù dalla montagna e una volta cancellato con l'ipnosi di CS vera e professionale, tu potrai dire montagna spostati, la montagna si sposterà. Ragazzi, il sottoscritto prima di essere un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura e neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale, pur ottima, che si studia a scuola da cui io sono partito, eccetera, eccetera, bene, ti posso garantire che le ho provate tutte su di me, su ogni cosa di cui parlo e su centinaia e centinaia di persone nel mondo perché come San Tommaso se non vedo, se non tocco, non credo, io ho replicato lo stesso metodo su centinaia e centinaia di persone nel mondo con risultati di poco strabilianti. Come al solito non credo a nessuna parola del sottoscritto, io non sono un guru bla bla, non blatro tanto per, non ho bisogno di mangiare vendendo audio ai miei P13GS, grazie a Dio perché sto bene per le prossime 37 vite, ho tantissime attività nel mondo per cui non ho, però la mia mission, la mia missione è quella di sdoganare quest'arte, questa scienza che parla la tua mente profonda e il tuo subcosciente, anche da sola e da solo se non hai voglia di girare il cappello o magari andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola a cui ti invito di andare perché il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni online di ipnosi di CS vera e professionale, va bene? Perché non ho tempo, sono molto impegnato, eccetera, eccetera. Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com iscriviti a questo canale YouTube benessereipnosi soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fa share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, visita anche la mia fanpage su Facebook ipnosi autipnosi del dottor Claudio Saracino e seguimi anche sugli altri social Instagram e Twitter benessereipnosi soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino un bacio e un abbraccio e alla prossima ciao